L'isola del Lazzaretto Nuovo a Venezia è conosciuta anche più semplicemente come il Lazzaretto. E' qui che ha avuto origine la parola quarantena oltre 600 anni fa, una misura estrema nata dalla necessità di proteggere i cittadini dalle prime ondate di peste bubonica che stava devastando questi territori. Venezia è stata la prima a adottare il sistema dell'isolamento, cioè usare le isole, le caratteristiche del proprio territorio, che è formato da un arcipelago di isole e isolette sparsi in laguna. Nel 1400 le navi, le merci e i loro equipaggi in arrivo da est dovevano isolarsi prima di continuare verso la terraferma. Ricevevano una sistemazione e un magazzino dove riporre le merci. Alcuni hanno lasciato la loro traccia sui muri dove sono rimasti. Queste mura ora testimoniano le migliaia di persone che hanno trascorso settimane qui, in isolamento. Sono scritture bellissime che riportano sia dei disegni di navi che attestano naturalmente i traffici mercantili e l'arrivo all'azzaretto perché quando le navi, le galerie veneziane provenivano dall'Oriente e arrivavano a Venezia, le merci e l'equipaggio stanziava per una durata di circa 40 giorni, da cui la parola quarantena. Il dottore della peste, il famoso personaggio del carnevale, è un ricordo dei tempi in cui non esisteva cura. Venezia normalmente sarebbe gremita in questo periodo dell'anno con migliaia di persone che si dovrebbero godere l'apertura della stagione del carnevale, ma quest'anno non c'è nessuno a causa del coronavirus. Grazie. Grazie.